Allora, Diego, se io inviterò eventualmente Fusaro, no Fusaro, l'altro, Saviano, il barone rosso, cosa devo fare? Beh, sarà un lieto invito sicuramente, a fatto che la trasmissione per quell'occasione all'uopo venga ribattezzata il bardone rosso. Rosso come le aragoste titillevoli che si gusta ogni sera, sul lattico di Nuova York. Vuoi salutare Morena che è mia moglie che è il tuo fan? Certamente, un carissimo saluto anche alla moglie, siamo qui in sua assenza, ma è come se fosse con noi. Quindi ti aspetto al barone rosso che contesi che va al barone rosso però. Assolutamente, assolutamente. Ok, quindi prossimamente Fusaro al barone rosso.